Tartelletta con mousse di pere, provolone del Monaco, su salsa di cioccolata amara. Innanzitutto preparate la pasta per le tartellette. Il procedimento è simile a quello per la preparazione della pasta frolla. L'unica differenza è nella farina a cui aggiungiamo la farina di mandorle. Dopo un'ora stendete con il matterello la pasta e foderate con essa 4 stampini da tartelletta. Bucherellate il fondo delle tortine con i rebbi di una forchetta, ricoprite con alluminio e riempite di legumi secchi. Cuocete le tartellette in forno preriscaldato a 180 gradi centigradi per 8 minuti. Sciogliete il cioccolato amaro a bagnomaria e tenetelo in caldo. La sera precedente sbollentate le pere in acqua zuccherata, ridurle in mousse con il frullatore a immersione e lasciarle sgocciolare in un colino per tutta la notte. Disporre sopra le fettine di provolone del monaco. Infornare a 180 gradi centigradi per 5 minuti. Disponete in un piatto la cioccolata tiepida e adagiatevi sopra la tartelletta. decorare con una fetta di pera disidratata in forno e spolverizzate il tutto con zucchero a velo e polvere di cannella. Grazie a tutti! Grazie a tutti!